ma quando vedo voi di bossa se prendi due giorni abbiamo fatto tutti ciò un po' che stiamo qua si ma che sei tu? vabbè ma lei non ci può mettere le carte in bacio ma che cazzo le avrà a mettere tante vite e voglio mettere un bacio ehi 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 vabbè devi pagare l'aperitivo perchè hai abbandonato il gioco no vabbè ma ti spiega tu mi devi bussare sto qui qui e mi io che si che funziona sto chiamando e ti hanno chiesto il petto io penso che si ma quando a tenere devi mettere la coppia non lo metti più però tu mi devi far capire che ce l'hai tu ma ma a te più capita che sei ma a te ne abbassare su quel tu mi puoi fare ehi 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 qui vuoi ehi 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 ehi